Agatino Chiavaro, l'Akragas ha raggiunto ormai l'obiettivo? No, ancora manca un punto, però diciamo che siamo vicini, vicinissimi, per cui ci siamo. Una grande soddisfazione aver raggiunto questo obiettivo, è vero che manca ancora un punto, ma non è che ci possiamo nascondere dietro un dito, non vogliamo essere troppo scaramantici? No, neanche pochi. Io penso che abbiamo regalato una cosa maggiore immensa al popolo di Agrigento, perché non è facile vincere i campionati, per cui quando raggiungi questi obiettivi, anche se manca poco, però non ci nascondiamo, felicità in primis per noi e poi per tutta la gente che ti vedi felice, è quello che ti rende felice a te, vedere la gente che ti riconosce e vedi la felicità che hanno negli occhi, per cui penso che non c'è gioia migliore. Un ricordo in questo momento mi sovviene, il gol del 2-2 con il Rende, il tuo gol realizzato all'ultimo minuto, forse lì c'è anche una delle chiavi di questo campionato, la voglia dell'Akragas di rimontare due gol a quella che oggi è la seconda in classifica e che è stato determinante. Sì, se poi pensiamo che un paio di settimane, una settimana scorsa, se noi, mi facevo un conto, se perdavamo quella partita, noi ci avevamo un punto, a loro gliene mettevi due e si faceva dura, per cui penso sia stato un passo fondamentale, sai ogni anno c'è sempre quella partita dove ti dici questo è stato fondamentale, non perdere quella partita sicuramente è stato fondamentale per il proseguimento del campionato Il vostro è un grandissimo gruppo e l'ho testimonianato oggi il modo con cui avete esultato quando ha segnato che indigna il calcio di rigore, intanto è stato acclamato al pubblico perché lo tirasse lui e poi la vostra esultanza è stata veramente particolare. Vabbè, noi, il rigorista oggi era lui, per cui... Però non sembrava convinto di tirarlo in quel momento Perché non voleva, si vergognava, però penso che se lo merita per quello che ha fatto in questi anni da Grigento e per il ragazzo che... per cui fare gol può essere sempre bello E lui non lo faceva da tanto, per cui se lo meritava C'è andato vicinissimo nel corso del campionato, qualche gol annullato Sì, purtroppo sì, però se lo merita e se lo meritava Perfetto, grazie